ah esclamò Karl Massoligny che ci capisce bravo con i mariti che chiudono un occhio io ne ho conosciuti certamente di ogni tipo beh non mi è mai riuscito di farmi un'opinione precisa su uno soltanto tra tutti loro ho cercato spesso di capire se erano veramente ciechi chiaroveggenti o deboli di carattere io credo che ne esistano di tutte e tre le categorie sbrighiamo in fretta i ciechi altra parte quelli non chiudono nessun occhio dato che sono all'oscuro di tutto questi sono soltanto dei buoni animali che non vedono oltre il proprio naso e d'altronde una fazzenda curiosa interessante la facilità con cui gli uomini tutti e anche le donne si lasciano ingannare per rinfinocchiarci bastano le infime astuzie di tutti quelli che ci vivono accanto figli domestici fornitori l'umanità è credulona e per sospettare indovinare sventare le manovre degli altri noi non usiamo neanche la decima parte dell'intelligenza che invece adoperiamo quando vogliamo a nostra volta ingannare qualcuno i coniugi chiaroveggenti sono di vari tipi ci sono quelli che sono mossi da un interesse di denaro di ambizione o di altro e permettono che la consorte abbia uno o più amanti costoro domandano solamente di salvaguardare le apparenze e sono felici quando le cose vanno così ci sono poi quelli che si arrabbiano ci sarebbe da scrivere un romanzo su di loro e poi ci sono i deboli quelli che hanno paura dello scandalo tra i mariti compiacenti vanno considerati anche gli impotenti o meglio gli sfaticati quelli che evitano il letto coniugale per timore della tassia o dell'apoplessia insomma quelli che ci sono rassegnati al fatto che sia un amico di famiglia a correre certi rischi quanto a me ho conosciuto un marito di specie rara che ha reagito a questo male così comune in maniera originale e spiritosa a parigi avevo fatto la conoscenza ad una coppia elegante mondana molto ben vista in società la moglie un tipo nervoso sottile molto corteggiata si diceva non disdegnasse le avventure galanti mi piace perché era spiritosa e credo di esserle piaciuto anche io le feci la corte una corte che definirai sperimentale lei rispose con provocazioni evidenti arrivamo presto alle occhiate tenere alle strette di mano a tutte quelle piccole galanterie che precedono l'attacco conclusivo tuttavia esitavo sono fermamente convinto che la maggior parte delle relazioni mondane anche quelle che durano poco non valgono la preoccupazione che ci procurano e tutti i dispiaceri che ci possono provocare dunque stavo valutando i pro e i contro che potevo sperare e temere quando ebbe l'impressione che il marito sospettasse qualche cosa e mi sorvegliasse una sera durante un ballo mentre sussurravo paroline tenere alla signora e in un salottino attiguo al grande salone dove fervevano le danze notai improvvisamente riflesso in uno specchio un volto che ci spiava era lui i nostri sguardi si incontrarono dovidi sempre nello specchio girare il capo e andar via le sussurrai vostro marito ci sta spiando lei sembra stupirsi mio marito proprio così e non è la prima volta che ci osserva ma no ne siete sicuro sicurissimo è proprio strano in genere si mostra così cordiale con i miei amici proprio non si potrebbe immaginare quanto forse ha intuito che io vi amo via e poi non siete il primo che mi fa la corte ogni donna un po in vista sempre dietro un codazzo di spasimanti sì ma io vi amo profondamente ma anche ammettendo che sia vero com'è possibile che un marito indovini una cosa simile allora non è mai geloso no no riflette per un attimo e poi continuò no non mi sono mai accorta che fosse geloso non vi ha mai mai sorvegliata no come vi dicevo anzi è molto gentile coi miei amici da quella sera la mia corte a quella signora divenne spietata non perché la desiderassi di più ma perché ero tentato dal desiderio di suscitare la probabile gelosia del marito quanto a lei ero in grado di giudicarla con freddezza e lucidità aveva un suo fascino mondano prodotto da un'anima vivace gaia simpaticamente superficiale ma anche troppo nervosa come ho già detto senza nessuna reale seduzione ed un'eleganza un po troppo vistosa come spiegarvi era un fondale da teatro non una solida costruzione ed ecco che un giorno proprio mentre mi stavo accomiatando dopo aver pranzato in casa loro il marito mi dice caro amico da un po di tempo mi trattava da amico noi partiamo tra poco per la campagna sia per mia moglie che per me è un gran piacere poter ospitare qualche persona simpatica accettate di venire a trascorrere qualche giorno da noi sì sarebbe davvero gentile da parte vostra restai molto stupito e accettai e così un mese dopo ero da loro in un castello del vercresson in turenna la stazione ferroviaria distava cinque chilometri dal castello e loro erano venuti a prendermi erano in tre la moglie il marito e uno che non conoscevo il conte de morterad a cui fui subito presentato sembra felice di conoscermi e allora mi passarono per la mente le idee più strane mentre percorrevamo al gran trotto un grazioso sentiero sprofondato tra grandi siepi di verdura dicevo a me stesso cosa significa tutto questo ecco un marito che non può certamente aver dubbi sul fatto che tra sua moglie e me ci sia del tenero eppure mi invita a casa sua mi riceve come un amico intimo e all'aria di dirmi su caro coraggio la via è libera poi mi presentano un tale che sembra a casa sua nella famiglia e che forse tenta di uscirne e ha tutta l'aria ad essere contento quanto il marito del mio arrivo era un amico che si era stancato e cercava un pretesto per battere ritirata forse e allora i due uomini sono forse d'accordo magari sono intimamente legati tra loro da uno di quei piccoli patti infami tanto graziosi e tanto in voga nella nostra buona società e mi propongono senza una parolina di sondaggio di entrare nella loro associazione forse di prendere il posto dell'amante stanco mi danno la mano il braccio spalancano tutte le porte e tutti i cuori e lei lei è un enigma non deve non può ignorare niente eppure eppure ecco no 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 non ci capisco niente durante la cena l'atmosfera era strettamente festosa e cordiale una volta alzati da tavola il marito e l'amico cominciarono una partita a carte mentre io andavo a contemplare il chiaro di luna in compagnia della signora lei sembrava molto commossa dalla natura mi resi così conto che si avvicinava il momento della mia felicità quella sera la trovavo veramente incantevole la campagna l'aveva intenerita o piuttosto illanguidita e la sua lunga personcina sottile era un'apparizione piena di grazia sulla scala di pietra accanto al gran vaso che conteneva una pianta avevo voglia di portarla sotto gli alberi e di gettarmi alle sue ginocchia per dirle tante paroline amorose la voce del marito si fece sentire luis sì tesoro ti sei dimenticata del tè però vedo subito tesoro rientrammo lei ci servì il tè i due uomini terminata la partita a carte avevano visibilmente sonno salimmo nelle rispettive camere io mi addormentai molto tardi e dormi molto male il giorno dopo decidemmo di fare una piccola gita nel pomeriggio e partimmo in una carrozza scoperta per andare a visitare alcune rovine lei e io eravamo nel fondo della vettura e gli altri due erano seduti di fronte a noi parlavamo con animazione simpaticamente sinceri io sono orfano e mi sembrava di aver ritrovato una famiglia fino a tal punto mi sentivo a mio agio in mezzo a loro tre all'improvviso poiché luiz aveva allungato un piedino tra le gambe del marito lui mormorò con tono di rimprovero luiz non mettere più queste scarpe vecchie non c'è nessuna ragione per essere più trascurate in campagna che a parigi abbassai lo sguardo calzava effettivamente degli stivaletti consumati dall'uso e notai allora che anche le calze le pendevano da una parte lei era arrossita e aveva nascosto il piede sotto la gonna l'amico di famiglia guardava in lontananza con aria indifferente e distaccata da queste cose volgari il marito mi offrì un sigaro che accettai poi per parecchi giorni di seguito non mi fu mai possibile rimanere solo con lei per un paio di minuti dato che il consorte ci veniva dietro dappertutto e d'altra parte con me era così gentile una mattina era venuto a cercarmi per fare insieme una passeggiata prima di metterci a tavola il discorso cadde sul matrimonio dissi qualche frase delle solite sulla solitudine e sul fatto che una donna poteva con la sua tenerezza rendere incantevole la vita in due mi interruppe bruscamente amico caro non parlate di cose che non conoscete una donna che non ha più nessun interesse ad amare un uomo non seguita a volergli bene per molto tempo tutte quelle civetterie che ce la fanno sembrare squisita quando ancora non ci appartiene definitivamente finiscono di colpo appena lei diventa di nostra proprietà per legge e d'altra parte la donna onesta cioè una donna come le nostre sono no non sono mancano di insomma non conoscono abbastanza bene il loro mestiere di donne ecco io lo so bene non disse una parola di più e così non riuscì ad indovinare completamente cosa volesse dire due giorni dopo questa conversazione mi in camera sua piuttosto presto per mostrarmi una raccolta di stampe mi sedetti in poltrona proprio di fronte alla grande porta che separava la sua camera da quella della moglie sentivo che lì dietro qualcuno camminava si muoveva e non pensavo più alle incisioni mentre esclamavo deliziosa incantevole davvero deliziosa lui disse improvvisamente oh ma ho qualche altra cosa da farvi vedere vado a cercarvela in un'ampia stanza disordinatissima in mezzo a gonne pettorine busti buttati in terra un lungo essere allampanato spettinato semi coperto da una gualcita sottoveste di seta che si appiccicava tutta quella schiena scheletrica stava spazzolandosi davanti a una specchiera di radi capelli biondici le sue braccia formavano due angoli puntuti e quando si voltò spaventata vidi sotto una camiciola di tela grezza un cimitero di costole che un finto seno di ovatta dissimulava in pubblico il marito emise con naturalezza un piccolo grido si ritrasse indietro chiudendo la porta e con aria mesta mi disse oh mio dio quanto sono stupido sono proprio un imbecille ecco uno sbaglio che mia moglie non mi perdonerà mai io invece avevo una gran voglia di ringraziarlo andai via tre giorni dopo strinsi calorosamente le mani dei due uomini e baciai quella della signora che mi disse addio con estrema freddezza carl massuligni tacque qualcuno allora domandò ma è l'amico di famiglia non so che fine abbia fatto però però aveva un'aria proprio desolata vedendo che andavo via tanto presto grazie a tutti grazie a tutti